nome stefano valentini name guido guarducci professione codirettore di camnes profession archeologist but also the co-director of the center for ancient mediterranean near eastern studies camnes titolo di studio dottorato in storia antica l'università di firenze qualification phd at university of reading uk cos'è camnes qualcuno ha detto una reazione alla disoccupazione dilagante che esiste nel settore dei beni culturali in italia io direi un'anomalia un centro studio what is camnes 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 is a study center first of all but is also a hub of archaeological research public archaeology higher education all of this mixed together and obviously this new project cos'è camnes studio camnes studio è una innovazione qualcosa di nuovo che cerchiamo di diffondere sul web per poter trasferire al questo pubblico ben più ampio rispetto al nostro solito dei contenuti e le nostre attività quelle che noi facciamo al camnes what is camnes studio camnes studio it's our online video platform on youtube our youtube channel but not only here we're going to start to present a lot of things a lot of videos different topics huge stuff coming in the next videos so be sure to follow us we're going to talk about archaeology we're going to talk about anthropology we're going to talk about different things on this platform not only about conferences and people talking about annoying topics no also something interesting for everyone quali argomenti tratterete tratteremo argomenti che hanno a che fare con quelli che sono più o meno le nostre attività quindi gli studi antichi in particolare l'archeologia la didattica l'alta formazione sì e i nostri progetti di ricerca which topics will you treat ha exactly well apart from the ones that i already said we're going to touch also on how to do things we're going to learn how to excavate certain types of strata certain types of context how to use specific instruments of archaeological instruments how to choose your your faculty how to choose your archaeology course a lot of things not only again i want to underline this of archaeological sites or historical people no a lot of different things perché seguirvi perché perché la nostra attività è un'attività molto interessante che spesso se non speriamo con questo mezzo non arriva ad un pubblico che noi vorremmo più ampio rispetto al nostro usuale why follow you well because we're going to have and we have a different approach we follow the academic standards we had we have our experience on the field but now we're ready to give this back in a different form especially we're going to try to communicate things that we cannot find usually in a normal academic program or in your academic or university experience we're going to try to give you something more from a different perspective you're going to have to follow us to know why qual è il tuo indiana jones preferito? ah il mio indiana jones preferito è Marco which is your favorite indiana jones? well obviously the last crusade saluta ciao say hello howdy bye guys